C'è sempre la ricetta per rendere una giornata speciale. Basta scegliere l'eccellenza della materia prima. Gesti della tradizione che ho assaporato fin da piccola. Una ricerca sensoriale, intensa e raffinata, da cui lasciarsi avvolgere. C'è sempre la ricetta per rendere una giornata speciale. La mia è Qualità Oro. Speciale dal 1956.